...della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dall'Aggiunta per il Regolamento. L'Ordine del giorno delle Commissioni riunite, Terza e Quarta Camera e Terza del Senato rega lo svolgimento dell'audizione informale del Comando Operativo di Vertice Interforze Covi, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, nell'ambito dell'esame congiunto delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 10 maggio 2023, nonché nella relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno di processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Do quindi il benvenuto anche a nome dei Presidenti della Commissione Affari Esteri della Camera e della Commissione Terza del Senato al Generale Figliuolo e ai suoi accompagnatori, Generale di Brigata Massimiliano Mongillo, Tenente Gianfilippo Cambera e Maggiore Alessandro Nobile. Avverto che dopo l'intervento del Generale Figliuolo sarà data la parola ad un parlamentare per gruppo per un primo giro di interventi e dopo la replica del Generale potrà avere luogo un secondo giro di domande da parte di altri colleghi che ne facciano richiesta. Chiedo dunque ai colleghi di far pervenire fin da ora al Banco della Presidenza la loro iscrizione a parlare. Do adesso la parola al Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo per il suo intervento. Prego Generale. Presidente Craxi, Presidente Minardo, Vice Presidente Formentini, onorevoli senatori e deputati, colgo questa gradita occasione per rivolgere loro il mio più cordiale saluto e saluto altresì anche gli intervenuti collegati da remoto, ringraziando per l'opportunità che mi è concessa di fornire alcuni approfondimenti in relazione al dispositivo normativo in esame che autorizza le missioni militari per il 2023. Proseguendo sulla linea tracciata nel corso degli interventi del Ministro Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Cavodragone, porterò alla vostra attenzione una descrizione delle missioni italiane all'estero e delle loro finalità nei diversi ambiti strategici. Nel farlo, dopo una breve introduzione inerente al contesto geostrategico di riferimento ed una sintesi del quadro Missioni 2023, descriverò lo sforzo dello strumento militare all'estero con un approccio per regione e aree di prioritario interesse strategico, partendo dall'Europa e chiudendo con il Medio Oriente. Un'analisi puntuale del contesto geostrategico non può non partire dall'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022, momento cardine per la magnitudine degli effetti che ne sono derivati sul sistema delle relazioni internazionali e, non ultimo, sul quadro economico-finanziario che ha investito, seppur con misure diverse, l'intero assetto mondiale. In quest'ambito, una delle dirette di immediate conseguenze del conflitto russo-ucraino è stata la volontà, sempre più diffusa e marcata, di rafforzare le politiche di difesa dei singoli Paesi e la postura di deterrenza delle principali organizzazioni internazionali di nostro riferimento, la Nato e l'Unione Europea. Il nostro Paese, peraltro, per natulare le collocazioni geografica e patrimonio storico, è anche alla frontiera di una linea di faglia che si estende a sud del Mediterraneo, regione caratterizzata da molteplici fattori di instabilità e aree di crisi che ben si palesano nei quadranti strategici che compongono il cosiddetto Mediterraneo allargato, l'Europa continentale, il Medio Oriente, le fasce settentrionali e subsahariana del continente africano. In altri termini, il Mediterraneo allargato rappresenta quella dimensione strategica nella quale originano le potenziali minacce agli interessi nazionali e sulla quale gli sforzi della difesa si concentrano. Ed è nella consapevolezza di questa dualità caratterizzata da un lato dagli sforzi per contribuire al rafforzamento della postura di difesa e deterrenza sul fianco est dell'alleanza, dall'altro dall'esigenza di continuare a svolgere un ruolo determinante sul fianco sud dell'area euroatlantica, che operano le nostre donne e i nostri uomini nel loro diuturno impegno a rappresentare l'Italia nei teatri operativi esteri. In questo complesso contesto geostrategico, lo strumento militare è impiegato in una vasta area che, dal Mediterraneo allargato, si estende attraverso il fianco est della Nato ed arriva fino al Mar Baltico. In termini numerici, l'impianto programmatico per le missioni internazionali 2023 prevede la partecipazione a 43 missioni e operazioni, di cui 29 sotto legge di organizzazioni internazionali ONU, NATO, Unione Europea e 14 su base bilaterale o all'interno di specifiche coalizioni internazionali. Saranno impiegate in media circa 7.500 unità, con un contingente massimo autorizzato di poco inferiore alle 11.500 unità. In particolare, in aggiunta alle missioni che proseguono dal 2022, quattro sono le missioni di nuovo avvio nell'anno in corso, nello specifico, in Europa, la missione dell'Unione Europea di assistenza militare all'Ucraina, European Union Assistance Mission Ukraine, mentre in Africa le missioni dell'Unione Europea di partnership militare con il Niger, European Union Military Partnership Mission, di assistenza alla gestione delle frontiere in Libia, European Union Border Assistance Mission, e la missione bilaterale di assistenza alla Repubblica del Burkina Faso. È terminato invece il contributo nazionale a due missioni che operavano nel Mali, la European Training Mission Mali e Takuba, alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica Centrafricana, alla missione orice al supporto dello svolgimento dei mondiali di calcio in Qatar, all'impegno della forza di elevata prontezza della Nato denominata Very High Readiness Joint Task Force, fino al 31 dicembre 2022. Partendo dalle aree geograficamente più vicine, nel 2023 prosegue l'impegno nazionale a sostegno della stabilizzazione dei Balcani, aree in cui gli eventi delle ultime settimane dimostrano nuovamente come la presenza del nostro dispositivo militare, seppur a distanza di anni, risulti ancora fondamentale per prevenire l'acquirsi di crisi regionale e d'arginare le continue tensioni. Il mio pensiero va ai 30 feriti degli scontri di lunedì scorso, di cui 19 ungheresi e 11 italiani, e ringrazio tutti loro per la vicinanza ai nostri uomini. Vi posso rassicurare per averli visitati direttamente martedì e per aver avuto ancora notizie dal loro comandante questa mattina che i nostri feriti sono lievi e sono in continuo e progressivo miglioramento e a breve poi rientreranno in Italia. A conferma del nostro ruolo di attore primario in Kosovo, dove abbiamo un contingente di circa 850 unità, manterremo il comando dell'operazione fino a ottobre 2023 per poi assumere la posizione di vice comandante per un anno. Continueremo inoltre a fornire, nell'ambito del contingente europeo Euro Gen 4, unità specializzate dell'arma dei carabinieri per la missione civile dell'Unione Europea, European Union Rule of Law Mission in Kosovo, cosiddetta EULEX Kosovo. A riguardo al riconoscimento delle capacità nazionali dimostrate nel tempo, all'Italia è stata assegnata la guida della missione dal 15 giugno 2023 con il nuovo capo missione ed un mission generale dei carabinieri Giovanni Barbano. Parimenti in Bosnia e Zegovina, paese attraversato da forti tensioni politiche, economiche e sociali, incrementeremo il nostro contingente nell'ambito della missione dell'Unione Europea denominata Altea, con lo schieramento di un'ulteriore compagnia di fanteria e ci candidiamo anche qui ad assumere posizioni di vertice. Lo strumento militare sarà quindi presente nell'area balcanica con un contingente composto in media da poco meno di mille unità che potrà arrivare a oltre 1700 con la forza di riserve in prontezza di livello battaglione, la cosiddetta Operational Reserve Force Battalion della Nato, pronta ad intervenire con brevissimo preavviso in caso di necessità. Operano inoltre, a supporto delle missioni nei Balcani, due assetti aerei per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Sul fianco S della Nato prosegue il contributo nazionale al potenziamento dei dispositivi alleati già schierati nel quadro del rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della Nato, della dimostrazione del pieno sostegno ai Paesi alleati, del potenziamento dell'attività di sorveglianza e acquisizione informativa. In particolare, la contribuzione dell'Italia, quale Paese alleato di riferimento, si articola attraverso molteplici iniziative. Nel dominio terrestre, oltre all'impegno nell'area baltica per il potenziamento di una presenza avanzata, l'operazione Nance Forward Presence a supporto di unità di livello battaglione a guida canadese rischiarati in Lettonia, si consolida il significativo schieramento del contingente nazionale nell'area sud-est avviato nel corso del 2022. In particolare, nell'ambito delle attività di vigilanza rafforzata, abbiamo assunto, dallo scorso ottobre, il ruolo di Nazione Guida, Framework Nation, del battle group multinazionale in Bulgaria di livello reggimento per il quale, in linea con i nostri alleati, prevediamo nel 2023 l'elevazione a rango ordinativo di brigata, mantenendo la leadership, con l'immissione della componente ad ala rotante e di ulteriori componenti specializzate dell'esercito. Siamo presenti con un sistema di difesa antiaerea e antimissilistica SAMT in Slovacchia, che ha consentito di dirottare a difesa dei cieli ucraini l'impiego della batteria statunitense Petret precedentemente schierata. Proseguiamo il contributo al battle group in Ungheria, livello battaglione, siamo pronti a supportare con elementi di staff in condizioni di reciprocità il battle group a guida francese in Romania. Nel dominio marittimo continua la partecipazione al dispositivo di sorveglianza navale e di raccolta dati nell'area di responsabilità dell'alleanza, nell'ambito del dispositivo nato permanente per la sorveglianza navale, le cosiddette Standing Naval Forces, cui si aggiungono per l'anno in corso compiti per il rafforzamento della difesa dello spazio aereo polacco, mediante l'invio di un'unità navale, il caccia torpediniere lanciamissili caio di Uilio nel Baltico. Contestualmente i nostri assetti aerei partecipano al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza dello spazio aereo dell'alleanza e di raccolta dati nell'ambito delle attività tese a porre in essere apposite misure di rassicurazione, le cosiddette Assurance Measures, nonché al potenziamento delle attività di sorveglianza e controllo dello spazio aereo, Air Policing, e più recentemente di protezione di questo, Air Shielding, per preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'alleanza. A questo schieramento fisico di personale e capacità sul fianco est si aggiunge il contributo alle numerose iniziative nell'ambito della Missione Europea di Assistenza Militare all'Ucraina, la citata Eumam-Ucraina, mediante specifiche attività di addestramento svolte in Italia a favore di personale delle forze armate ucraine presso istituti militari, aree addestrative e installazioni militari presenti sul nostro territorio, nonché tramite l'impiego di personale e di staff nei comandi dislocati in alcuni Paesi membri dell'Unione. Per dimensionare il nostro contributo a supporto delle attività dell'alleanza sul fianco sud-est, l'Italia schiera un contingente massimo autorizzato di più di 3.000 unità, più di 2.000 unità presenti in media, circa 600 mezzi terrestri, fino a 5 unità navali e più di 25 assetti aerei. Il Mediterraneo allargato resta la nostra dimensione strategica di riferimento, area di priorità rinteressa nella strategia di sicurezza nazionale. In particolare, proprio nel fianco sud dell'alleanza atlantica, si registra un incremento della competizione geostrategica con sistemica instabilità aggravata da cambiamenti climatici, istituzioni sempre più deboli, squilibri demografici, crisi alimentari e sanitarie, che favoriscono tra l'altro i fenomeni terroristici e i traffici illeciti in un quadro di instabilità generale. Il contributo della difesa si può declinare in due sostanziali dimensioni, una operativa e una cooperativa. Nella dimensione operativa, l'impiego dello strumento militare è volto ad assicurare una postura atta a garantire superiorità decisionali e dissuadere eventuali azioni che pregiudicano gli interessi nazionali, per la cui tutela permane rilevante la partecipazione alle operazioni Nato e dell'Unione Europea, anche al fine di indirizzare efficacemente gli orientamenti strategici delle due organizzazioni internazionali verso quello che è il fianco sud sia dell'alleanza atlantica sia dell'Unione Europea. Questo deve essere necessariamente accompagnato da iniziative prettamente nazionali, volte ad assicurare presenza, sorveglianza, vigilanza e quindi deterrenza. Nell'ottica di garantire la sicurezza del fianco sud dell'area euro-atlantica, la difesa è quindi presente nel mare Mediterraneo attraverso il dispositivo aeronavale dell'Operazione Nazionale Mediterraneo Sicuro, recentemente riconfigurata con l'estensione all'area di operazioni agli spazi marittimi internazionali del Mediterraneo centrale ed orientale che assicura la presenza, sorveglianza, sicurezza e raccolta informativa. La partecipazione all'operazione dell'Unione Europea IRINI, European Naval Force Mediterranean, di cui ospitiamo proprio presso Centocelle anche il Comando Operativo qui a Roma, che assicura il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sui traffici illeciti da e per la Libia. La partecipazione all'operazione di sorveglianza NATO Sea Guardian, che contribuisce alla creazione di un più completo quadro di situazione marittimo, Maritime Situational Awareness, mitigando il rischio di eventuali minacce alla sicurezza marittima. La partecipazione al già citato dispositivo navale permanente nell'ambito delle Standing Naval Forces, che con il proprio gruppo 2 opera anche nel Mediterraneo. In totale, per la partecipazione a queste iniziative, impieghiamo un contingente di più di 2.000 unità, 12 unità navali e 14 assetti aerei. Contemporaneamente ampliamo la collaborazione con i Paesi costieri nell'ottica della prevenzione e risposta alle crisi, favorendo lo sviluppo di capacità autonome da parte dei Paesi con i quali cooperiamo, in particolare nelle aree di più immediato interesse nazionale. La difesa si proietta attraverso un'articolata attività di cooperazione internazionale basata su piani di cooperazione strutturati che rispondono in primis alle esigenze dei Paesi partner e che ricomprendono ambiti molto ampi e pregiati che vanno dalla formazione e l'addestramento all'assistenza nello sviluppo capacitivo. Nel Nord Africa resta di principale interesse l'evoluzione della situazione in Libia, dove siamo impegnati in diverse iniziative sia derivanti da accordi di tipo bilaterale che all'interno delle organizzazioni internazionali. Oltre alle già citate operazioni Rini e Mediterraneo Sicuro, evidenzio la nostra missione bilaterale di assistenza e supporto italiane in Libia con compiti di assistenza, mentorizzazione, addestramento e rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza, rimodulata per rispondere alle attuali necessità della controparte. Inoltre partecipiamo dal 2023, come già citato, alla missione dell'Unione Europea European Border Assistance Mission in Libia per la gestione integrata delle frontiere. La difesa è altresì pronta ad avviare attività di formazione e addestramento con iniziative di tipo bilaterale con la Tunisia, quando sarà consolidata la definizione delle necessarie tutele giuridiche del personale, nonché pronta ad operare per attività di addestramento, consulenza e capacity building a favore dei paesi partner situati lungo tutto il fianco sud all'interno dell'iniziativa nato Framework for the South. Spostandoci verso il Mediterraneo orientale, prosegue il significativo impegno delle nostre forze armate per la stabilizzazione e lo sviluppo del Libano, dove partecipiamo con un contingente di più di mille unità, 400 mezzi terrestri, due unità navali e otto assetti aerei, nell'ambito della missione delle Nazioni Unite e UNIFIL e della missione bilaterale di addestramento alle forze armate libanese, l'Ebanese Armed Forces, l'AF. Con riferimento alla missione bilaterale, vorrei evidenziare come nell'attuale grave fragilità della situazione politico, economica e sociale del Libano, le forze armate libanese, l'Elaf, siano senza alcun dubbio considerate l'ossatura portante di questo Paese e di istituzione di indiscusso riferimento. Proprio in tal senso, nella piena dimostrazione di una vicinanza storica del nostro Paese al Libano, attraverso l'impiego di team sanitari e militari inquadrati nell'Amibil, l'Italia sta fornendo un prezioso supporto ai militari e ai familiari degli appartenenti all'Elaf, gesto che sta riscuotendo un'anime apprezzamento libanese, consentendo di saldare ulteriormente gli ottimi legalmi già in essere tra i nostri due Paesi. Complessivamente nel Mediterraneo schieriamo quindi più di 3.000 unità di personale, 14 unità navali e 24 assetti aerei. Guardando alle aree immediatamente contigua al Mediterraneo, prosegue l'impegno della difesa nel Sahel, dove lo sforzo operativo è stato riorganizzato con l'azzeramento della contribuzione in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Proprio con riferimento al Mali, alla luce del deterioramento delle condizioni di sicurezza, è terminato nel 2022 il contributo nazionale alle missioni europee e alla task force da Cuba. Inoltre nel corso del 2023 avverrà il ritiro dalle ulteriori missioni, di fatto è avvenuto, abbiamo chiuso ieri, l'European Union Capability Building Sahel-Mali e la United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, la cosiddetta MINUSMA Mali delle Nazioni Unite. Il nostro impegno nel Sahel è quindi focalizzato principalmente sul Niger, dove siamo presenti con la missione bilaterale che svolge attività di formazione, addestramento e mentoring alle forze armate locali e alle forze di sicurezza per incrementarne le capacità complessive nel contrasto al terrorismo, al fenomeno dei traffici illeciti e delle minacce alla sicurezza. Partecipiamo alla nuova missione dell'Unione Europea denominata European Union Military Partnership Mission in Niger, missione di partenariato militare condotta al fine di rafforzare le capacità nigerine nella lotta contro i gruppi terroristici armati, della quale abbiamo assunto da subito la guida, esprimendo per il primo anno il Mission Force Commander. In particolare l'Unione Europea supporterà la costituzione di un battaglione per le funzioni di comando e comunicazione, fornendo formazione e tutoraggio alle sue unità, ai suoi specialisti e alla sua catena di comando. Parimenti, sosterrà l'istituzione e la formazione, anche in chiave logistica, di un centro per la formazione dei tecnici delle forze armate, fornendo consulenza e formazione ai formatori. Siamo infine presenti nella missione European Union Capacity Sahel Niger per lo sviluppo delle forze di sicurezza nigerine attraverso l'impiego di unità dell'arma dei carabinieri nell'ambito del contingente europeo Eurogen4. Inoltre, con un approccio regionale all'area subsahariana, prosegue l'impegno nel contrasto all'illegalità nelle acque del Golfo di Guinea, con unità navale ed elicotteri imbarcati impegnati in compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza a tutela degli interessi nazionali nell'area. Siamo pronti ad avviare una nuova iniziativa bilaterale di supporto nel Burkina Faso, seguendo attentamente l'evoluzione della situazione securitaria nel Paese. Complessivamente, nell'area del Sahel, prevediamo di impiegare un contingente massimo di quasi 800 unità, una unità navale, fino a 7 assetti tra aerei ed elicotteri. Nel Corno d'Africa, proseguono le attività nazionali atte a favorire la stabilità regionale. Il nostro impegno principale resta in Somalia, dove partecipiamo all'iniziativa dell'Unione Europea con la missione European Union Training Mission Somalia, missione militare di formazione per il rafforzamento delle forze armate nazionali somale, di cui manteniamo il comando e siamo la nazione framework. La missione europea di capacity building in Somalia, di assistenza per il rafforzamento delle capacità di polizia e di sicurezza malittima. Partecipiamo inoltre ad attività nazionali su base bilaterale. La missione di addestramento delle forze somale e gibutiane basata su gibuti, che si inserisce nelle iniziative di capacity building e concorre alla stabilizzazione della Somalia e della Repubblica di gibuti mediante l'addestramento delle relative forze di sicurezza. È importante in quest'ambito citare la base nazionale di supporto a gibuti che assicura il supporto logistico per le esigenze connesse con tutte le missioni internazionali che insistono nell'area del Corno d'Africa e che ha avuto, come noto, un peso particolarmente rilevante nell'operazione di evacuazione dei nostri connazionali dal Sudan, stante la recentissima crisi interna ancora in atto. Sempre nel Corno d'Africa, questa volta sul mare, nel Golfo di Aden, partecipiamo con una unità navale alla missione European Union Naval Force EUNAV4, operazione Atalanta, per il contrasto alla pirateria in mare. In tale ambito viene fornita l'assistenza agli stati rivieraschi per lo sviluppo delle capacità di protezione delle rotte marittime e di antipirateria. L'area di operazioni di Atalanta, che inizialmente era orientata all'Oceano Indiano e al Mar Rosso, è stata estesa alle acque internazionali del canale di Mozambico, paese dove inoltre operiamo nell'ambito della missione di formazione dell'Unione Europea, per addestrare le forze locali al contrasto delle violente organizzazioni estremiste operanti nell'area di Cabo del Gado, a nord del paese. Complessivamente nel Corno d'Africa schieriamo un contingente massimo di quasi 700 unità, con circa 500 unità medie presenti, una unità navale e due assetti aerei. Infine, nell'area del Medio Oriente, attesa alla rilevanza della Regione per la sicurezza energetica del nostro paese e i solidi legami storici, la difesa si è posta all'obiettivo di acquisire e mantenere un elevato profilo attraverso la partecipazione nell'acquisizione di ruoli di leadership in operazione e missioni militari nella Regione. In Iraq continuiamo ad agire nell'ambito dell'operazione di coalizione Operation Inner and Resolve prima partica per la lotta contro il Daesh, dove impieghiamo un contingente massimo di circa 1.000 unità e 13 assetti aerei, con compiti di addestramento a favore delle forze armate e forze di sicurezza locali, a supporto delle attività della coalizione internazionale per la stabilizzazione dell'area medio orientale. In tale contesto, fondamentale importanza riveste l'hub operativo logistico in Kuwait, dove con gli assetti schierati effettuiamo attività di difesa aerea integrata, ricerca e sorveglianza e supporto logistico a tutto il contingente nazionale nell'ambito della succitata operazione Inner and Resolve in termini di trasporti, supporto sanitario e tecnico-amministrativo. Prosegue inoltre la nostra partecipazione alle missioni di consulenza e rafforzamento delle capacità istituzionali dell'Iraq, Institutional Building, denominata Neto Mission Iraq, NMI, di cui abbiamo da pochi giorni ceduto il comando in rotazione con la Spagna e a breve acquisiremo comunque una posizione da generale con il Capo di Stato Maggiore della missione. Contribuiamo quindi all'iniziativa di coalizione la European Lead Maritime Awareness in distretto Wormuz a Wormuz-Emaso nel Golfo Persico e nello stretto di Wormuz, attività volta a tutelare la sicurezza e la libertà della navigazione nell'area con un'unità navale e tre assetti aerei. Proseguono infine due ulteriori iniziative nell'area medio orientale. Trattasi della partecipazione alla coalizione per il mantenimento della pace nel Sinai con le attività di sorveglianza marittima nell'ambito dell'ultra quarantennale missione Multinational Force and Observers MFO nonché la missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi svolte da nostra unità dell'arma dei carabinieri prevalentemente nell'area di Gerico. Complessivamente nel Medio Oriente siamo impegnati con un contingente massimo di oltre 1700 unità 4 unità navali e 20 assetti aerei. Permettetemi di affermare con piena convinzione che l'impiego dello strumento militare e qui descritto avviene nella piena consapevolezza che l'operato dei nostri militari rappresenta un tassello importantissimo di un sistema paese capace di generare fiducia nei confronti dei nostri alleati e soprattutto valore aggiunto nei paesi nei quali siamo presenti. I nostri contingenti costituiscono di fatto il presupposto fondamentale per ogni altra azione nazionale volta a contribuire al sostegno e alla crescita dei paesi partner esattamente come la stabilità e la sicurezza costituiscono premessi rinunciabili per lo sviluppo economico e sociale di uno Stato. In altri termini la nostra presenza nei vari teatri operativi è costruita quale parte determinante di un approccio olistico finalizzato a generare stabilità e sicurezza nonché favorire lo sviluppo nelle aree di prioritario interesse nazionale. Mi avvio verso la conclusione del mio intervento evidenziando con estremo orgoglio come la componente umana dei nostri contingenti schierati all'estero non solo sia consapevole dell'importanza del proprio ruolo ma costituisca con il suo sistema valoriale quella bellissima espressione dell'Italia che ben ci rappresenta nel mondo. Nel corso delle mie frequenti visite nei teatri operativi ho infatti avuto l'opportunità di constatare sia l'elevatissima preparazione e professionalità delle nostre donne e dei nostri uomini sia l'incondizionata stima e riconoscenza da parte delle nazioni ospitanti e di alleati e partner che guardano al nostro paese come un interlocutore privilegiato. In altri termini la forte domanda di Italia è chiaramente percepibile nelle varie aree del mondo dove la difesa è chiamata ad operare come spesso evidenziato dal ministro della difesa Crosetto ed è proprio nello spirito di questa consapevolezza maturata sui fatti che chiudo il mio intervento confermando l'impegno incondizionato del comando operativo di vertice interforze e degli uomini e donne delle nostre forze armate a fare la propria parte per il paese in qualsiasi momento in qualsiasi circostanza e ovunque sia necessario. Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro costante prezioso e immancabile supporto. Grazie a lei generale Figliuolo passiamo adesso agli interventi dei colleghi ha chiesto di intervenire il senatore Gasparri prego senatore Grazie intanto generale Figliuolo per la sua ampia relazione i dati puntuali e l'attività che coordina e ovviamente grazie a tutte le strutture che a lei fanno capo al cui impegno conosciamo anche recentemente la nostra commissione ha avuto modo di visitare il Covid e ringraziamo ancora per la sua disponibilità in quella iniziativa promossa dal presidente Craxi Rapidamente vedo che nel Sahel c'è una forma di riduzione dell'impegno ci riferisce sul mali di vicende che anche a livello internazionale tuttavia quella resta un'area come dire problematica perché poi molte volte i flussi migratori l'instabilità politica i fenomeni che poi si riverberano anche sul nord dell'Africa quindi poi sull'area mediterranea e in definitiva sull'Italia sono delicati una sua riflessione di quadro direi insomma anche se nella sintesi di questi lavori sul Sahel insomma che cosa potrà accadere poi ecco lei ha fatto riferimento ovviamente al nostro impegno in Libia pur nel quadro complesso e anche nella prospettiva in base a accordi in via di definizione con la Tunisia nel campo della formazione siccome Libia e Tunisia diciamo salendo un po' più a nord sono paesi che riversano le loro problematiche anche sull'Italia anche qui una sua l'ha fatto già accenno nella sua relazione se volesse aggiungere qualche cosa ultima questione che abbiamo avuto modo di discutere anche nell'ultima come dire visita presso il Covid la pericolosità della Wagner che ho già arrivato in altre audizioni è evidente a me sembra che però venga evocata in maniera totale dalla Russia al centro dell'Africa alla Libia ovunque sembra che siano milioni gli effettivi una sua votazione sulla pericolosità anche nei quadri diciamo africani e dintorni perché insomma che si è impegnata nell'aggressione l'Ucraina questo è evidente però in questi quadri per capire la effettiva incidenza e pericolosità grazie grazie a lei do la parola adesso al senatore Marton grazie generale per la relazione ieri all'ammiraglio capo d'Oragone ho chiesto della situazione della missione in Burkina Faso vedo che lei ha approfondito ulteriormente quindi non mi riferirò a quel tipo di missione quello che le chiedevo però è relativo alla scheda 14 quella della missione in Bahrain Kuwait Qatar e Emirati Arabi leggo che nel 2022 ci sono stati sono stati impiegati 145 unità di personale due mezzi aerei nella scheda che sto leggendo vedo che sono se ho capito bene mi corregga lei se ho capito male invece verranno inviati ulteriori due mezzi aerei volevo capire quale tipo di operazione svolgano questi ulteriori se ulteriori mezzi aerei e se lei ritiene che la situazione in quell'area e mi riferisco quindi Emirati Arabi Arabia Saudita Yemen si sia stabilizzata se sia invece secondo lei ancora molto problematica e vorrei una sua valutazione grazie ha chiesto di intervenire la senatrice Pucciarelli buongiorno grazie generale per questa audizione e grazie per aver esposto in modo così dettagliato tutto quello che è l'impegno dei nostri uomini e delle nostre donne nelle varie missioni che ci vedono in vari territori nelle varie missioni di stabilizzazione e pacificazione delle varie aree e grazie perché noi forse dimentichiamo quanto è importante la struttura che lei dove lei è a capo perché ricordiamoci bene quello che è stato il prezioso contributo fornito nella prima fase della pandemia con il far arrivare i nostri connazionali che erano in Cina con dei voli fatti con l'utilizzo di barelli di biocontenimento in uno scenario che in quel momento non si sapeva bene che cosa ci potesse far aspettare da lì a breve e grazie anche per la gestione che è stata effettuata nella prima consegna dei vaccini per quanto riguarda la crisi per le sfiltrazioni dell'Afghanistan i nostri uomini anche in quel contesto si sono distinti proprio per un'umanità differente rispetto a tutti gli altri perché i nostri uomini sono stati gli unici a fornire non solo il supporto per quelli che dovevano partire ma anche per tutti quelli che si ritrovavano nell'aeroporto con sostentamento alimentare e di bevande cosa che invece gli altri non hanno fatto l'importanza del COVID è proprio nel senso della coordinazione della pianificazione di tutte le missioni quelle nazionali quelle internazionali l'intervento nei vari scenari anche di emergenza che si riscoprono di volta in volta con una esigenza sempre maggiore di uomini e di mezzi alla luce di quello che è la 244 e con quello che è la 119 che è stata votata lo scorso anno con la posticipazione dell'entrata in vigore a pieno regime nel 2024 oggi fare un'attenta riflessione su quella che è la riduzione del personale alla luce di quelle che sono le continue richieste e quanto può supportare il nostro personale proprio la richiesta di rispondere a nuove missioni a nuove criticità e nuove emergenze ecco una valutazione secondo lei se oggi più che mai è opportuna farla proprio per rivedere il numero del personale previsto dalla 244 grazie do la parola adesso all'onorevole Rosato grazie grazie presidente grazie generale per la dettagliata illustrazione volevo chiederle due cose la prima c'è un tema che riguarda la contingenza l'attualità il quanto sta succedendo nei Balcani su cui lei ha precisato proprio in apertura della sua audizione e io volevo chiederle qual è la sua valutazione rispetto all'influenza della Russia rispetto alla destabilizzazione di quanto sta avvenendo ci sono responsabilità diciamo diffuse ecco lì ma c'è sicuramente un interesse russo alla destabilizzazione lei questo lo percepisce pensa che sia un elemento concreto e quanto concreto è cioè in quanto efficacia abbia la loro azione la seconda questione riguarda l'area del Sahel e più in generale la presenza di Wagner in Africa è evidente che dove ci ritiriamo noi e lei ha citato gli esempi le situazioni che dove abbiamo chiuso missioni europee si posiziona si posiziona Wagner era già accaduto in Libia è già accaduto in altre aree se un approccio emotivo il fatto di andare via in una missione può risultare avere dei risvolti positivi il risvolto negativo è che dove andiamo via noi arrivano loro e dove arrivano loro sarà difficile mandarli via successivamente condizionano economia politica e non hanno l'approccio che hanno le nostre missioni quanto di tutto questo è elemento di criticità nella valutazione della nostra presenza in quelle aree nostra intendo come presenza internazionale e dell'Unione Europea delle Nazioni Unite insomma della collettività che sta si concentra in un certo con una certa alleanza che naturalmente sta costruendo degli spazi che restano vuoti e che non restano vuoti a lungo ma vengono immediatamente riempiti grazie interviene adesso il senatore Barcaiolo grazie presidente no anch'io per ringraziare ovviamente da parte nostra il generale Friuliolo per la dettagliata ed esaustiva relazione che di fatto ripercorre e percorre diciamo da un punto su tutto il globo quello che le nostre forze armate stanno facendo molte delle domande che devo porre sono state in parte anticipate dai colleghi precedenti sia sulla vicenda del Sahel sia sulla vicenda diciamo del più ampio quadro balcanico dopodiché ieri un collega aveva sollevato proprio nell'audizione della Miraglio Dragone anche la vicenda della nostra senza l'Indo Pacifico e quindi soprattutto da un punto di vista prospettico rispetto alla vicenda di Taiwan se da questo punto di vista c'è un qualche tipo di come posso dire allarme e preparazione a posizionare qualcosa di nostro lì dopodiché è chiaro che il ringraziamento va ovviamente a tutte le nostre forze armate perché credo che la parte conclusiva del suo intervento in cui fondamentalmente usa come definendoli operatività e cooperatività rispetto ovviamente anche all'interlocazione con le popolazioni locali mi è capitato col Presidente di visitare la nostra missione in Libano e anche ovviamente il comando e la parte interforza del Mibib per le LAFFE e credo che sia stata una testimonianza diretta per me almeno appunto della nostra capacità e del fatto che le forze armate italiane si contraddistinguano oggettivamente per riuscire a conciliare umanità efficienza e rigore che credo che sia ovviamente il nostro proprio prodotto esportabile per questo che ovviamente come ha scritto anche l'enerazione la richiesta dei nostri interventi sono sempre molto sono appunto sempre molto richieste grazie grazie a lei chiesto di intervenire l'onorevole Graziano prego onorevole grazie grazie al generale Figliolo che è stato molto puntuale e preciso le volevo però chiedere due cose in particolare una era un po' l'aveva già chiesto il collega Rosato cioè che cosa qual è la sua valutazione su quello che accade sui Balcani perché a mio avviso è una situazione anche quella abbastanza preoccupante e sul quale noi siamo interessati a capire oggettivamente che cosa succede per le ovvie ricadute che abbiamo essendo come dire vicini la seconda noi abbiamo fatto una missione a Djibuti come commissione difesa della Camera dove come sempre c'è una grande dedizione dei nostri uomini e delle nostre donne però io vorrei una valutazione da lei perché il corno d'agra il centro Africa in particolare tutta quella fascia e in particolare l'Etiopia dove sostanzialmente ci sono circa 120 milioni di abitanti nella sostanza oltre alla vicenda del Libano oltre alla vicenda della Tunisia e abbiamo visto che lì sul versante Sudan è stata fondamentale diciamo la base logistica di Djibuti noi eravamo andati proprio la settimana precedente già era in preparazione quello che era il lavoro che poi si è verificato successivamente volevo una valutazione su qual è cioè il suo pensiero su che cosa accade nel centro Africa perché sarà il passo successivo dopo diciamo la vicenda del nord Africa e qual è il grado che secondo lei si dovrebbe impegnare un po' io direi l'Italia ma sostanzialmente c'è un tema un po' più generale che riguarda l'Europa e io penso l'asse occidentale nel suo complesso perché c'è una pesante intratura diciamo di posizioni differenti sostanzialmente dalle nostre la parola adesso all'onorevole Quarta Pelle grazie anch'io seguendo quanto diceva Stefano Graziano noi abbiamo una serie di missioni in Africa saheliana in particolare Mali Niger Burkina la missione in Mali era collegata diciamo ci siamo anche noi ritirati dalla missione in Mali perché i francesi sono ritirati quindi c'è stato un problema collegato all'efficacia politica di quella missione ma anche all'efficacia come strategia di contrasto al terrorismo che di fatto non ha funzionato perché troppo perché troppo poco se ne può discutere qual è la valutazione che voi date di questo tipo di missioni quali problemi ci sono e che cosa si può fare per affrontare questi problemi e io credo che il Parlamento debba essere molto consapevole di questo perché la frontiera è veramente nella fascia saheliana una frontiera di rischio gigantesca e non possiamo avere semplicemente un atteggiamento di approvazione o di non approvazione delle missioni ma bisogna metterci un attimo di ragionamento politico e strategico ha chiesto di intervenire il vicepresidente Formentini prego grazie presidente come ricordava il senatore che già è intervenuto proprio ieri ho chiesto anche al capo di stato maggiore di dare sempre più attenzione all'indo pacifico ben sapendo l'impegno gravoso cui siamo sottoposti vista anche l'aumentata presenza russa nel Mediterraneo la difficile situazione nel Sahel la volatilità nei Balcani però è evidente che in tutte queste aree che ho citato aumenta la proiezione cinese e proprio allora nell'indo pacifico è necessario andare e ribadire quei valori che sono la base delle nostre democrazie e tra questi innanzitutto la libertà di navigazione già abbiamo visto la missione della nave Morosini un'ottima iniziativa del nostro paese speriamo che sia faccia da battistrada il pattugliatore per una futura missione di cui tanto si è parlato della Cavour nel prossimo autunno inizio dell'anno prossimo e speriamo altresì che si dedichi a quest'area l'elaborazione di una vera visione del nostro paese altri paesi europei se ne sono già dotati ci sono stati nella passata legislatura anche passaggi parlamentari che invitavano il governo tutto a elaborarla è necessario farlo perché tutti noi sappiamo che nelle acque dello stretto di Taiwan si giocherà probabilmente il futuro delle nostre democrazie è evidente che Mediterraneo allargato e Indo-Pacifico sono oggi aree totalmente interconnesse e un esempio a questo riguardo è la base navale di Djibouti con presenza sia giapponese che cinese ovvero le due basi navali di questi paesi grazie generale grazie a lei vicepresidente abbiamo l'ultimo intervento la presidente Craxi grazie presidente Minardo da un lato mi associo alle preoccupazioni espresse da alcuni colleghi dove arretra l'occidente qualcun altro altri attori a volte ostili a volte semplicemente contrare i nostri interessi subentrano sto parlando appunto per esempio dell'area del Mali ma anche io penso sia un peccato lasciare il comando della missione Cfor alla Turchia però questa decisione è presa dal precedente governo quindi concordo con l'onorevole Quarta Pelle una riflessione va fatta per ultimo vorrei significare certa di interpretare anche il sentimento di tutti i miei colleghi il sentimento di gratitudine che noi abbiamo per l'importante ruolo che le forze smart armate svolgono nel mondo non solo le missioni internazionali su una parte importante della nostra proiezione esterna ma anche il compito di assicurare pace e stabilità al sistema internazionale è un compito fondamentale che le forze armate italiane svolgono con grande impegno da anni e lo fanno come lei ha ben detto nella sua relazione con un grande senso di umanità e io aggiungo anche con un alto senso e responsabilità verso la comunità e la nazione grazie generale figliolo grazie presidente se nessun altro collega chiede di intervenire do la parola al generale figliolo per poter rispondere alle vostre domande prego bene grazie davvero per le domande anche devo dire perché poi abbracciano un po' tutto quello che è il nostro impegno nei 26 paesi del mondo in cui siamo con queste 43 missioni partirei raccorpandole un po' riesca allora partiamo dai Balcani quindi diciamo il senatore Gaspar che non aveva usato non aveva il graziano sui Balcani sostanzialmente come voi sapete anche meglio di me i Balcani sono un po' Balcani occidentali un giardino di casa quando nel giardino di casa ci sono i rovi uno a furia di passare prima o poi si punge e quindi destano la massima attenzione cosa sta succedendo in questo momento in Kosovo chiaramente dal punto di vista operativo sul terreno lo avete visto lo avete dai report dalle fonti aperte da quanto è stato detto nei giorni precedenti anche dal capo di Stato Maggiore della Difesa sostanzialmente le posizioni fra la comunità a livello di leadership della comunità kosovare albanese e kosovare serba è già da un po' che si sono diciamo estremizzate sfilacciate di fatto si parlano poco o non si parlano proprio e questo è un grave problema che va sottoposto alla politica alla comunità internazionale quando due non si parlano o parlano ciascuno parla dell'altro senza parlarsi tra di loro si determinano dei problemi che poi sfociano in incomprensioni che poi sfociano in atti avventati che poi sfociano in violenze cioè dei Balcani e soprattutto del Kosovo ho grande esperienza essendoci stato nel 2000 avendo comandato KFOR fra il 2014 e il 2015 anche allora ci sono stati momenti di tensione si è arrivati quasi allo scontro fisico però cosa vedevo da parte nel 2014 15 delle leadership politiche cioè avevano la politica queste leadership stanno dimostrando di non averla e questo è il problema cioè da una parte una democrazia immatura che sta dimostrando grande immaturità dall'altra atteggiamenti estremi con dichiarazioni estreme anche da parte della leadership serba e quindi questa è la miscela esplosiva dove in mezzo ci sta una missione KFOR che è andata a ridursi dal punto di vista numerico perché è condition based quindi piano piano quando la comandavo io erano 5000 adesso sono 3000 gli operativi nell'ottica di quale era l'ottica operativa concentriamo le forze cinetiche che siano mobili ampiamente disponibili facciamo focus su forze che fanno ascolto i liaison monitoring team vanno a mentorizzare a monitorare si fanno carico dei problemi della cittadinanza partecipano ai consigli comunali quali consigli comunali dove partecipano adesso che al nord non ci sono più i consigli comunali ecco cioè questo è quindi leggere cioè il paradigma di lettura non c'è più e questo è saltato dal punto di vista politico chiaramente chi si trova sul terreno in questo modo perde molti riferimenti si rifà alla missione chiaramente che è la base e dopodiché i nostri uomini come gli uomini della forza a un certo punto hanno dovuto per evitare il linciaggio di tre mezzi della polizia a Kosovare con dentro i Kosovare albanesi isolati fare opera di interposizione e questo può portare all'inverosimile grande professionalità delle forze e le nostre erano a primo contatto che hanno solamente bloccato la folla quindi questo ha fatto sì che poi alla fine ci sia stata solo la reazione nelle file dietro della folla dei guardliner i facinorosi e purtroppo poi con il ferimento di 30 militari quindi cioè leggere una situazione del genere è molto difficile devo dire che in questo momento si sta facendo una grande pressione e soprattutto il nostro ministro degli esteri il ministro Tajani il nostro ministro della difesa stanno interloquendo giornalmente con tutti i principali attori di tutte e due le comunità in modo tale da cercare di portarli su un tavolo di trattative qualche segnale positivo sembra arrivato sembra arrivato probabilmente il primo ministro Kurti sembra che sia intenzionato a rifare le elezioni che hanno visto la partecipazione del ma nemmeno del 3% della popolazione della cittadinanza e dei quattro comuni interessati a maggioranza serba che hanno disertato le urne quindi anche lì lui dice ma io devo esercitare il mio diritto la mia autodeterminazione ma insomma dall'altra parte questa appare tutto provocazione quindi l'ultima goccia è stato questi sindaci che in qualche modo hanno cercato di raggiungere i municipi e poi si sono asseragliati là dentro e quindi è tutto un crescendo di piccole cose che poi possono destare grandi cose e di oggi la notizia è che probabilmente in tarda mattinata ci sarà una manifestazione questa volta promossa dalla comunità cossovaro albanese a Mitroviza Sud e chiaramente il comandante di Kefor ha preso tutte le predisposizioni e dovrebbe intervenire la polizia cossovara per bloccarli e confinarli e far sì che non si avvicinino al ponte di Austerlitz o ponte di Mitroviza che è il simbolo poi anche quello il ponte dovrebbe unire in questo caso divide e questa è in questo momento la situazione in Kosovo chiaramente noi abbiamo allertato le nostre forze la riserva e tutto quello che si fa in questi casi dal punto di vista operativo e tattico chiaramente in Bosnia la crisi è gravissima perché come voi sapete questa tripartizione che va dalla testa e scende per i rami e blocca tutto posizioni anche qui radicali estremisti da parte della Repubblica Serbska quindi il quadro è questo che poi viene acuito chiaramente quando c'è problema economico poi diventa anche sociale quindi questo poi è prodromico a far sì che ci possono essere scontri di piazza più o meno manipolati allora sulla Wagner in Kosovo ritengo in questo momento il fenomeno assolutamente marginale la Russia sta lì aspetta e approfitta utilizzando operazioni di Infoops Fake News e cose di questo genere oppure amplificando le dichiarazioni dell'uno o dell'altra parte secondo quella che è la sua narrativa però di fatto se io vi dovessi dire che sul terreno si vede questa grande presenza russa che va spingendo le persone a manifestare a fare a dire cioè io abituato a parlare in maniera sempre chiara è chiaro nulla si può escludere categoricamente ma non è né più né meno di quello che c'era prima della guerra detta in maniera molto chiara probabilmente i riverberi maggiori ce ne potrebbero essere in Bosnia ma non è solo in Bosnia e Zegovina l'attore Wagner ci sono altri attori come grande penetrazione da parte della Cina per motivi di natura economica di altri motivi chiaramente oppure in qualche modo del wahabismo che li poi porta a squilibri sulle componenti di natura religiosa etnica e quindi comportando tutti i vari problemi che poi portano una volta che si stressa il sistema a reazioni che possono essere anche di tipo scomposto ho visto varie domande sulla situazione in Sahel allora la sì la Wagner in Sahel c'è però qui bisogna vedere qual è la causa e qual è l'effetto allora l'ha detto pure prima l'accennava anche l'onorevole Quartapelle il vicepresidente il presidente Gasparri l'onorevole credo Graziano abbia chiesto sul sul Sahel sostanzialmente che cosa vediamo noi allora la nostra missione principale era Tacuba la missione a guida francese nel Sahel non pensare all'attore Francia è impossibile nel bene o nel male sostanzialmente cosa succede che a un certo punto l'anno scorso arrivano i ferricorti a livello politico quindi con delle dichiarazioni da parte del ministro degli esteri francesi delle repliche piccate da parte della presidenza del Mali legate al discorso che si dovevano portare ad elezioni colpo di stato a un certo punto loro hanno detto questa è casa nostra voi siete venuti in base a un accordo non vi vogliamo più chiaramente come diceva il presidente Craxi i voti si riempiono questo è stato noi già avevamo visto una certa presenza di Wagner non è che siano arrivati perché poi queste cose hanno una certa contiguità cioè questi fenomeni non è che sono di tipo digitale sono sempre di tipo analogico cioè piano piano tipo a vasi comunicanti man mano che il grip la presenza della comunità occidentale rallentava loro si sono posti come alter ego cioè hanno detto alle istituzioni maliane guarda che noi ci siamo o vi diamo una mano noi a sconfiggere il terrorismo o i vostri nemici o quello che volete quindi dove rimane adesso il grave problema proprio nell'area triconfinale che fa tra dei confini fra Burkina Faso e Burkina Faso e Mali Niger noi dove siamo noi che cosa abbiamo fatto eravamo già in Niger con la nostra attività bilaterale abbiamo cercato di consolidare la nostra attività in Niger perché in questo momento il Niger è un paese relativamente stabile è chiaro che quello che dico va parametrato sull'area di cui parliamo ecco dove c'è voglia di Italia questo ve lo posso dire proprio per perché direttamente sono stato lì tre volte l'ultima volta il mese scorso grande accoglienza è un paese che ha un relativo buon controllo del proprio territorio per lo meno sulla capitale in Giammei e su altre aree è chiaro che è un paese grande noi parliamo di un paese che quanto Spagna Portogallo e Francia ha messo assieme che in questo momento ha 25 milioni di abitanti ma che si stima che in 20 anni possa raddoppiare sette figli per donna è il terzo ultimo penultimo paese nel ranking del prodotto interno lordo e del pil pro capite quindi parliamo di un paese molto molto povero che di fatto ha bisogno di essere supportato e del paese che in questo momento passano le rotte sia sud nord sia est ovest di qualsiasi tipo parliamo di terrorismo traffici illeciti di qualsiasi natura chiaramente il controllo del territorio non è agevole non è facile hanno bisogno di essere equipaggiati noi qualcosa stiamo facendo anche in questo campo e dove devo dire i francesi riconoscendo queste nostre caratteristiche che sono state messe in evidenza da tutti i loro signori hanno hanno detto bene noi facciamo qualcosa facciamo sulla missione europea hanno detto bene a noi sta bene avere un italiano capomissione questo non è da poco perché si è capito che laddove si va ponendo anteponendo e dicendo guardate noi siamo qui diteci voi che cosa avete bisogno che noi possiamo fare per voi questo è l'approccio che noi stiamo tenendo e lì abbiamo ottenuto il terreno per costruire la base nell'ambito dell'aeroporto internazionale stiamo ingrandendo i nostri spazi nell'aeroporto in couso con i nigerini perché questa è la tecnica perché è chiaro bisogna dargli qualcosa stiamo costruendo un centro di medicina aeronautico che sarà a tutto loro vantaggio quindi con infrastrutture attrezzature e pacchetto formativo in modo tale che loro abbiano anche un centro d'eccellenza a livello regionale tutto questo ovviamente facendo l'addestramento e la formazione delle forze di sicurezza e della loro gendarmeria ecco questa è la strategia che noi stiamo ponendo in atto in Saella è chiaro che questa poi voi siete anche qui c'è la commissione esteri difesa va messa in un approccio di sistema paese quindi va rafforzata la parte dell'ambasciata è chiaro che è tutto un sistema che deve operare poi noi alla fine possiamo anche essere pensanti e tutto quanto ma siamo sempre il braccio operativo di tutto un sistema non è che da soli possiamo andare lì abbiamo anche l'aspetto della cooperazione civile militare possiamo fare il pozzo mettere su un piccolo centro sanitario costruire una piccola scuola rimangono sempre degli interventi spot è chiaro che poi ci va dietro questo poi una strategia d'insieme però ritengo che il Niger sia un paese su cui valga la pena porre grande attenzione devo dire sia la parte politica quindi il presidente Bazzum sia la parte militare sono molto molto legati all'Italia e ci vedono come degli interlocutori seri affidabili e che sono lì per cooperare ed aiutarli ecco questa è la visione del Sahel quindi quanti sono lì Wagner ma non è che parliamo di centinaia di migliaia di persone qui parliamo di migliaia forse mille forse qualcosa in più quindi cioè voglio dire poi è ovvio che sono sempre situazioni fluide perché nel momento in cui c'è stato il grosso delle forze Wagner su Bakhmut è chiaro che un certo drenaggio l'hanno dovuto fare anche da altre aree Onorevole Graziano Djibouti Corno d'Africa allora per noi Djibouti è molto importante perché anche dal punto di vista geografico l'ha citato lei noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto a favore dei nostri connazionali in Sudan se non avessimo avuto la base a Djibouti perché chiaramente è stata la rampa di lancio per andare a prendere i nostri avere la capacità non solo fisica di preposizionare i materiali ma anche di far parte di quel consesso di nazioni che stanno a Djibouti quindi fa sì che poi si abbiano delle interlocuzioni con le altre nazioni che servono ad avere un mutuo supporto ed anche non solo dal punto di vista ripeto fisico ma anche dal punto di vista logico su quella che è la situazione in atto quindi la condivisione delle informazioni di alto livello e quindi la chiarificazione dell'area e la possibilità di muoversi in un contesto di massima sicurezza mitigando il rischio atteso che quando si fanno attività militari rischio zero non esiste è chiaro che noi abbiamo molta l'occhio sul corno d'Africa al palato di Etiopia sulla Somalia assolutamente in Somalia in questo momento è in atto quella che loro definiscono quello che può essere la spallata definitiva contro al Shabab noi ci auguriamo che questo possa avvenire ovviamente noi siamo parte e la nazione più grande di quella che è la missione europea che è una missione ovviamente di addestramento delle forze di sicurezza l'Indo-Pacifico certo l'Indo-Pacifico sembra lontano è stato detto però è strettamente correlato con il Mediterraneo allargato e tutto quanto noi in questo momento l'ha detto ieri anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa non abbiamo piani sull'Indo-Pacifico sicuramente abbiamo posti in essere dell'attività le ha citate in Morosini prossimamente la nostra nave ammiraglia che andranno a fare quella che in gergo si chiama la naval diplomacy un giro su questi mari far vedere che ci siamo poi ovviamente una cosa è andare da solo un'altra essere collegati a dei task group a career task group che normalmente questo si fa si chiama in gergo tecnico il supporto associato cioè uno quando naviga normalmente fa diplomazia navale fa supporto associato quando viene vicino a delle missioni già operanti sia nel satalanta emas o altre missioni task group della nato o di alleati come può essere americano o francese o altre nazioni e dopodiché si fanno anche attività che si chiamano passex cioè sono esercitazioni di passaggio con i paesi riveraschi cioè e a volte si fanno anche con quei paesi con cui uno pensa sarebbe difficile fare invece servono molto a volte si fanno addirittura con l'iran piuttosto che si potrebbero fare con la Cina andando diciamo in giro questo poi sul momento e sulla base di accordi ovviamente quando si fanno queste cose l'autorità politica è sempre informata e a prova cioè non è che uno pensa e va lì perché chiaramente bisogna essere sicuri di quello che si fa in un quadro di sistema in un quadro di sistema c'è una domanda più tecnica credo del del senatore Marton vediamo il mio collaboratore ah ecco sì cioè sì allora i due sono rimasti quei due perché qualora si dovesse riattivare è a scopo preventivo siccome voi sapete l'impianto è abbastanza rigido cioè se non c'è scritto poi non si può fare qualora si dovesse riattivare la base logistica lab logistico di Al-Minad perché degli Emirati perché magari la situazione politica piano piano sta cambiando perché voi sapete meglio di me che a un certo punto c'è stata una chiusura con gli Emiratini dovuta proprio al discorso guerra e Yemen munizioni e quant'altro e loro di fatto ci hanno a un certo punto detto vabbè allora la base è nostra grazie grazie tanto potete andare quindi noi abbiamo previsto i due aerei la possibilità perché per noi gli Emirati sono comunque un altro posto da dove ci si può muovere per raggiungere agevolmente la nostra missione in Iraq noi lo facciamo dal Kuwait però avere due posti anziché uno va sempre meglio sullo Yemen oggettivamente gli accordi ci sono in questo momento sta facendo l'Arabia Saudita si sta muovendo con grande attivismo in maniera diplomatico-politica su tutta l'area diciamo scambi di prigionieri ed altre cose ci portano almeno in quell'area a ben sperare questa è la valutazione io vi ringrazio credo di aver risposto a tutte le domande no la senatrice chiedo scusa la senatrice Pucciarelli sì in effetti noi stiamo parlando di incremento di numeri di voglia di taglia dappertutto di andare ad intervenire nei dovuti modi operativo cooperativo dappertutto ma di fatto poi combattiamo con i numeri noi effettivamente combattiamo con i numeri io vi posso dire che il mio comando è 200 persone sotto organico poi chiaramente non posso che ringraziare le donne e gli uomini che operano nel comando ma se questo poi lo andiamo a pantografare dappertutto è più o meno così è chiaro che stiamo dando maggiore enfasi a tutto ciò che è operativo a chi sta sul campo però poi più di tanto il sistema non si può tirare è ovvio che so che c'è già stata una rivisitazione sono stati portati in avanti quegli effetti drastici è stata data la possibilità del reclutamento dei 10.000 però chiaramente avremmo bisogno di altre boccate d'ossigeno poi sono un comandante interforze ma provenendo dall'esercito che è quello che ha il più alto numero di capitale umano vi posso dire che effettivamente il sistema è davvero stressato ma poi l'ha detto anche l'ammiraglio Credendino non si riesce a fare i turni agli equipaggi siamo arrivando a dei paradossi che abbiamo le navi e non le riusciamo ad armare lo stesso vale per l'aeronautica insomma sì sicuramente perché poi è importante avere i nuovi sistemi fanno la differenza però alla fine se non c'è la donna e l'uomo dietro questo sistema con la motivazione con la consapevolezza di essere supportati dalla politica dalla nazione di avere dei comandanti degni di questo nome e di avere poi i numeri perché se uno si guarda di fianco io facevo una battuta quando facevo procurement nell'esercito dicevo qui mi sembra che siamo a fare questo soldato futuro che ha di tutto di più e poi un domani arriva l'astronave e scenderà uno solo armato fine ai denti insomma questo paradossalmente quindi grazie della domanda grazie generale Figliuolo se non ci sono altre richieste di intervento da parte dei colleghi io ringrazio ancora per questa opportunità importante di confronto mi associo ai ringraziamenti della collega Craxi a tutti gli uomini e le donne dell'esercito che quotidianamente lavorano in Italia e all'estero per il nostro paese ringrazio i colleghi presenti e dichiaro conclusa l'audizione ringrazio i ringrazio i ringrazio i ringrazio i